Invece oggi, vedete, cosa succede? Parlano, 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 alla fine per dire che i dieci comandamenti si può anche metterli da parte, che non sono assoluti. Addirittura ho sentito un alto, altissimo prelato dire che i dieci comandamenti non sono un assoluto. Sono un assoluto, sono la parola di Dio. Chi non rispetta i dieci comandamenti e muore non rispettandoli e si tratta di peccato mortale, se ne va all'inferno.